E' l'altro classico del ferragosto. Dopo la montagna, il mare per vivere una giornata spensierata e all'insegna dell'allegria o del pieno relax. Anche perché, diciamolo francamente, se da tempo si parla di turismi, il ferragosto resta un momento irrinunciabile delle vacanze. Ieri le temperature in spiaggia hanno anche un po' aiutato, perché all'oramai insopportabile caldo e afa della mattina, nel pomeriggio una perturbazione ha portato un po' di refrigerio e persino qualche goccia di pioggia. Anche quest'anno la formula ricorrente è sempre la stessa. Grandi numeri di residenti e turisti mischiati tra di loro e soprattutto decisi a trascorrere la giornata tra bagni, buon cibo e tanta musica. Non è mancata poi qualche trovato originale, come quella accaduta a Montesilvano, dove i bagnanti hanno improvvisato un trenino di ferragosto coinvolgendo i passeggeri di un autobus pubblico sul lungomare. Un carosello improvvisato, le cui immagini hanno fatto rapidamente il giro del web. Infine a sorvegliare le spiagge, come da tradizione, personale di assistenza ai bagnanti e soprattutto le forze dell'ordine, in particolare la Guardia Costiera, che anche con l'ausilio di un mezzo aereo del nucleo aereo Guardia Costiera di Pescara ha sorvolato e controllato l'intera costa abruzzese.